Buonasera signorina Gabriella e buonasera signorina Rita. Dunque mettetevi qui e fatevi vedere bene dai nostri ascoltatori. Io in questo momento ho l'impressione di aver bevuto un po' troppo in quanto vedo doppio. Ecco qui la nostra prima domanda. Sapete perché si celebra la messa nel cuore della notte? Ma proprio per sentire il battito di quel cuore che è il battito del cuore del mondo. Pace e bene a tutti. Via! Come canta il mio cuore. Esatto! Così canta il mio cuore! Esatto! Brava! Non penseranno mica di aver scritturato Delia Scala, Panelli e Manfredi? No, Delia Scala, Manfredi e Panelli. Dove vuoi stare? Delia Scala e Panelli per fargli dire... La prima canzone in programma questa sera è... Il Ministero della Pubblica Istruzione e la RAI, Radiotelevisione Italiana, presentano Non è mai troppo tardi. Senza Nice e Monte, senza Cina. Mi dica la verità adesso, da quanto tempo lei ha imparato a leggere? Due mesi. Sono due mesi, ossia dalla prima lezione lei ci ha seguito e ha imparato. Sì, sempre. Signore e signori, vogliate gradire la UN! Coreografia! Gli americani Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins si preparano a salire a bordo del Saturno 5. Destinazione? La Luna. L'avventura inizia. Ha toccato! Ha toccato il suono lunare. Fermate i motori hanno detto da terra in questo momento. Ha toccato in questo momento. In questo momento ha toccato... Ecco la discesa, questa volta è stato un vero e proprio salto. Il montante ora un gancio sinistro. Benvenuti sta abbattendo Griffith sul piano della violenza pura. 8, 6, 1 even for Benvenuti. Benvenuti, quindi, Nino Benvenuti ha riconquistato il titolo mondiale. Ancora Boninsegna, tiro, prete, Boninsegna, Boninsegna ha segnato, uno splendido tiro di Boninsegna, di sinistro. Shoot, passaggio, Rivera, prete, Rivera ancora qua. 4 a 3, 4 a 3, gol di Rivera. Ecco la macchina con i corpi, i corpi degli agenti che facevano parte della scorta dell'onorevole Moro. Questa è veramente una fumata bianca. Se mi sbaglio, se mi sbaglio mi corrigerete. Mennea cerca di recuperare, cerca di recuperare, recupera, 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 ha vinto, ha vinto, ha vinto. Traordinaria impresa di Mennea. Ecco, vedete, sono accaduti adesso, l'attentato è già accaduto. Uno o due colpi di pistola hanno raggiunto Giovanni Paolo II. Fermascirea, Bergomi, Gentile è finito, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3 a 1. Prodi la passa simbolicamente a Berlusconi, che la farà suonare all'inizio di ogni consiglio dei ministri. La resistenza contro l'Occidente è già diventata la madre di tutte le battaglie e il presidente Bush, il grande Satana. Ecco l'aereo, ecco. Ecco l'aereo che sta. Questo è il 757 che si schianta, si vede alle spalle sull'altra torre. Saddam ha rifiutato la benda, ha recitato la professione di fede, c'è un solo Dio e Muhammad, il suo profeta, e ha aspettato che il cappio si stringesse attorno al collo. Grazie! Grazie di cuore! La compagna al taxi! Vai, andiamo! Vai, a fra poco! In camera, essere tranquilli, seduti. È tutto sotto controllo. Vado a bordo, cazzo! Comandante, per coltesia. No, per coltesia, lei adesso prende e va a bordo. Lei vada a bordo, è un ordine! Ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al Ministero di Vescovo di Roma. Avemus Papam! Qui sibi nomen imposui, Francescum. Buonasera! Grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me! Grazie per me!